scusate ma prima di ogni video io prendo sempre un po di yogurt che mi fa bene anche perché qua dentro c'è il l'atto bacillus l'atto bacillus ma questi sono batteri batteri i poteri forti te l'hanno tenuto nascosto per anni anzi per millenni ma quello che tu chiami fermenti lattici non sono altro che volgarissimi batteri e mentre fai l'amore con il sapore dello yogurt in mezzo ci sono anche loro i batteri batteri che in questo caso si nutrono dello zucchero del latte il lattosio e lo usano per la cosiddetta fermentazione lattica che produce co2 e acido lattico ok questo magari vi sembra un po strano come microscopio ma chi mi segue l'ha già visto nei miei video si chiama dipol e non è il classico microscopio da tavolo come vedete ma un microscopio portatile si usa con qualunque smartphone o tablet è davvero molto potente e si possono fare delle osservazioni interessanti parliamo comunque di un prodotto che ha più o meno il prezzo di un microscopio giocattolo ma con prestazioni decisamente superiori se si ha naturalmente la voglia di esplorare se vi interessa in descrizione trovate un codice sconto per l'acquisto di un dipol non è un link di affiliazione non guadagno nulla sulle vendite quindi è davvero un bonus per gli amici di rock science vi segnalo anche che sul mio sito per i docenti rockscience.it c'è una sezione che si chiama viaggio micro e contiene tutorial e risorse per le osservazioni microscopiche link in descrizione per tutto quanto torniamo a noi prendo un po di yogurt e lo metto sul vetrino porta oggetti metto il coprioggetti e osservo vedo soprattutto coaguli di latte e grassi se fate lo yogurt vedete che il latte si raggruma è un effetto dell'ambiente acido che fa denaturare le proteine del latte che a loro volta formano una specie di grumo molecolare che rende lo yogurt più denso più lasciamo evaporare l'acqua più lo yogurt sarà denso fino a diventare quasi solido come lo yogurt greco che a me piace moltissimo ecco qui ci sono dei batteri qui ho usato un vetrino graduato per confrontare le dimensioni la distanza tra le linee più piccole è di 10 micron i batteri sembra che si muovano francamente è un po difficile capire da qui se si muovono in autonomia o se lo fanno in modo casuale questi piccoli movimenti che fanno potrebbero essere un moto browniano come succede a qualunque particella molto piccola in un fluido probabilmente un po tutte e due le cose le particelle più grandi che vedete sono invece piccole bolle di grasso il latte contiene un bel po di grasso che non si mescolano ovviamente con l'acqua e resta in emulsione i batteri sono al limite della risoluzione di questi microscopi per un microscopio come questo non è affatto male considerando che per vederli meglio dovremmo avere un microscopio da laboratorio con l'obiettivo più potente se non addirittura con un obiettivo a immersione a olio in realtà qui ho diluito il campione per poter vedere i batteri piacevolmente altrimenti si vede solo un grumo e non si capisce niente nello yogurt si trovano tipicamente due tipologie di batteri lactobacillus bulgaricus che è un bacillo ed appare al microscopio con la forma più allungata a bastoncello e lo streptococcus termophilus che è un cocco e appare al microscopio con la forma rotonda nel nostro vetrino questo dovrebbe essere lactobacillus con la forma un po più allungata questi dovrebbero essere streptococchi uso sempre il condizionale perché per avere una certezza bisognerebbe fare delle colorazioni particolari usare dei metodi laboratorio ovviamente non è questo il caso anche questi vedo solo streptococchi mentre questi batteri più grandi con un aspetto a clava cioè con una parte un po più cicciotta dovrebbero essere dei bifidus che in effetti sono nell'elenco dei fermenti lattici che ho usato per questo vetrino poi molti produttori oggi hanno in commercio fermenti probiotici cosa distingue il probiotico è la capacità di sopravvivere agli acidi che sono presenti nello stomaco e quindi di arrivare fino all'intestino si tratta di varietà diverse sempre con la capacità di fare la fermentazione lattica e quindi di funzionare da fermenti lattici. Ogni tanto se osservate bene si vedono delle specie di catenelle di batteri sono delle mini colonie che si formano quando un batterio si divide per dare origine ad altri due e così via la progene rimane almeno per un po attaccata ma basta poco pochissimo per rompere la catenella se guardate i batteri direttamente dal vasetto difficilmente vedrete le catenelle perché lo yogurt è stato omogenizzato ma se provate a fare uno yogurt in casa come ho fatto io è più facile che le vediate. Ovviamente i fermenti lattici alias batteri che si usano per lo yogurt sono batteri buoni che anzi nelle specie che riescono a superare la barriera gastrica vanno ad arricchire la nostra flora intestinale. Se ora che l'hai visti da vicino i batteri ti fanno schifo mettiti l'animo in pace perché nel nostro organismo e in particolare nell'intestino ci sono sicuramente molte più cellule batteriche rispetto a quelle umane e questi batteri vivono in simbiosi con noi è il cosiddetto microbioma ed è un elemento importantissimo che oggi è sempre più studiato. Questo invece è il lievito madre quello che si usa per la pasta madre del pane o della pizza l'ho preso da una bustina che ho acquistato al supermercato e l'ho semplicemente fatto rinvenire in acqua. Si vedono dei batteri di forma allungata e infatti sono dei bacilli mentre le sfere più grandi che vedete sono cellule di lievito di birra il nome scientifico è Saccharomyces cerevisie tra batteri e lieviti c'è un abisso evolutivo dato che i batteri sono prokaryoti i lieviti sono funghi monocellulari quindi cellule eucariote. Nel lievito madre sono presenti entrambi a differenza del lievito di birra normale dove ci sono solo i lieviti di birra se quindi solo il Saccharomyces. Sul canale ho pubblicato tempo fa un video sul lievito di birra con spiegazioni ed esperimenti divertenti anche al microscopio vallo a vedere ti metto il link in descrizione. Se ti piace questo video e lo trovi utile dai anche tu una mano e sostieni Rock Science qui in alto e in descrizione trovi un link per regalare un cappuccino a Rock Science ci metti due minuti se poi vuoi fare un passo in più e te lo consiglio con un piccolo contributo mensile entrerai a far parte della community riceverai da me gli aggiornamenti notizie vedrai video in anteprima e accederai al gruppo riservato telegram e molte altre cose like iscrizione campanella quello va da sé cervello sempre allacciato dentro la scatola cranica e alla prossima